Presidente, buonasera, una battuta. I tifosi della Juventus sono un po' preoccupati. No, 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 io devo parlare di altre cose oggi. Le volevo dire, Presidente. No, no, guarda, io sto per altre cose. Lo so, sta per un convegno. Ma perché, secondo lei, Presidente, il mondo Juve ce l'ha con lei? Ma si salva sta Juve o lo mandiamo in Serie B? Cercavo di essere persone serie, la prego. Parliamo di cose serie. Ma credo che la Juventus sia una società seria, però. Molto seria, è un bel modello, però non ho nessuna intenzione di parlare con lei. Lei ha ragione, Presidente. No, 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 nessuna intenzione di parlare con lei. E si è educato, va bene? Grazie. Un'altra battuta. Lei sulla manovra stipendi... Mi deve smettere, mi deve lasciare in pace. Ma lei sulla manovra stipendi ha detto che la Juve era virtuosa. Come mai adesso è sotto processo? Presidente, ha confermato che la Juve è una società molto importante. Non ha voluto rispondere, avete sentito tutti. Grazie.